Eccoci alla nuova puntata e stasera non parliamo di poesie ma di oracoli, soprattutto degli oracoli montanisti. Perché io ad esempio non avevo mai sentito parlare del movimento montanismo, che è un movimento religioso che nasce nella regione dell'Anatolia e risale alle origini del cristianesimo, quindi intorno al secondo secolo. Il fondatore fu questo montano appunto, che tra l'altro era probabilmente un ex sacerdote della dea Cibele. Questo montano sosteneva di parlare con lo Spirito Santo e quindi per questo sosteneva di avere delle visioni profetiche su vari ambiti della fede, come per esempio il ritorno di Cristo. Durò diciamo anche durante l'impero domano, ma piano piano, insomma nel momento in cui iniziava a prevalere comunque la corrente ortodossa del cristianesimo, questo movimento durò poco perché effettivamente venne categorizzato come eresia. In effetti poi, se lo pensiamo poi ai tempi della riforma, e della contrariforma, sarebbe stata proprio l'eresia, proprio non dico per eccellenza, ma insomma comunque bella e buona. Leggiamo questa poesia che si intitola Oracoli di Massimilla. Massimilla era una profetessa che apparteneva appunto a questo movimento dei monatisti. E se pensate a quello che vi ho detto all'inizio, dove il fondatore di questo movimento si riteneva in grado di parlare con lo Spirito Santo e avere queste visioni profetiche, alla luce di quell'informazione, secondo me si capisce anche quello che ci dice Massimilla. Come un lupo cacciato dalle pecore sono perseguitata, ma lupo non sono, sono parola, spirito, potenza. Me non udite, Cristo udite, nessun profeta mi seguirà, segugi della fine siamo. Allora, in questo oracolo, così in generale, la profetessa appunto predicava la fine del mondo. Poco dopo la sua morte appunto ci sarebbe stata la fine del mondo. E questo, tra l'altro, oracolo, questa poesia, questi oracoli di Massimilla furono tra l'altro spesso citati da polemisti cristiani come segno di falsità delle profezie appunto montaniste. e, a parte questo, comunque è una predizione appunto sulla fine del mondo, cioè dopo che Massimilla morirà, ci sarà la fine del mondo. E questo è quello che pensavano, almeno da quello che ho capito, anche tutti gli altri, tutti gli altri membri del movimento religioso. e poi, effettivamente, dice Me non udite, udite Cristo, Cristo udite. Come se effettivamente lei fosse lei la voce di Cristo, cioè come se lei fosse appunto come montano che riesce a parlare, riesce a parlare, a mettersi in contatto con lo Spirito Santo. attraverso di lei, mi verrebbe da dire, parla Cristo. Quindi, capiamo che poi, effettivamente, per quello che le idee che ci sono state successivamente, poteva essere considerata un'eresia questo movimento. Quindi sono cose che andrebbero approfondite, perché poi questo... Mh... Verrebbe voglia di iniziare anche una serie su... una serie di video sugli oracoli. Sarebbe una cosa molto... diversa. Poi comunque fanno sempre parte... Vabbè, questi sono pensieri miei. A parte questo, comunque, davvero non sapevo manco dell'esistenza di questo movimento religioso. e niente, volevo condividere con voi questa poesia e la conoscenza di questo movimento per chi, appunto, ancora non lo avesse scoperto. Quindi io vi ringrazio per avermi ascoltata e ci vediamo domani. Ciao ciao!